Buonasera a tutti, prima di tutto porto i saluti del sindaco Rettini che questa sera per altri impegni non è potuto intervenire a questa serata. Volevo ringraziare la società Rinascita che come tutti gli anni organizza questo splendido torneo, in questo impianto, preludio alla festa dei sette dolori che è imminente tra quanti giorni. Io volevo fare un ringraziamento per parlare anche alla società Rinascita di Russi perché quest'anno ha rappresentato la città dell'abbaglio della bassa Romagna e ha vinto della propria disciplina, della disciplina, appunto, delle voce. Inoltre voglio ricordare che questa amministrazione è simile al servizio di Pianto e se non siamo riusciti a fare una convenzione che questa società stessa, in tanti momenti di crisi, grazie a tutti, grazie a tutti, a me, a me poi, come la, no, leadership, poverti. facciamo un grosso applauso